Tarretta e Gasaglia, strade e vitture che facciano oggi, Lupino, Montesoro e Paese Novo, esistono sempre a tracce di un passato campagnolo. Passionati di tuponimia e di storia, Cesario Raffini e i suoi amici si scontrano guaggi tutti i giorni in caffè, l'occasione di rammentarsi di un passato tanto lontano. La nostra pastilla è bella e fiera di far partita di la nostra Corsigilla. Dall'arto delle montagne, con le vie più affine, scopre le nostre campagne, con tutti questi confini, quando tu guardi il mare, scopri le isole vicino. E questa è la cosa. Sì, nel XIX secolo, si lunghi erano l'orti di Castilla e fermano sempre i diassi comunali che li piavano tanto gli agricoltori. Qui c'è un diassi che colla in Montserrati, partendo da Lupino, ma Lupino è un delogio, 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 che usavo ai pompieri, da qui collavano per andare in Montserrati. Adi e forni, muri, cercano cesare i raffini e i compagni, tutte le dracce dell'attività agrioglie. E l'upino, so pareti. questa è una bozza che è coperta qui c'erano l'orto sicuro c'è l'altra io volevo 1800 1800 è qualcosa ci sono iniziali, pesi no? dopo ci sono una tenuta, una proprietà di qualche sia e qui si indovina che c'erano l'orto la gullizia che è verde c'è un castello qui c'è un mitrogolo e qui c'è un mitrogolo l'Indologia Notre-Dame della Vittoria questo è Usabione questo è Usabione Petro Paolo di Casabianca fondatore di Usito Internet a Biazzetta è andato anche alla promenade in questa idea di Castilla scopo fa origenze di i gamini comunali in Antona Garta Numerica e parche mica dà olio a gente dà andare a scoprire il patrimonio di la società e poi a certe orti mi sono appoggiato l'antogadastro l'antogadastro antico napoleoniano che si chiama o se no mi sono andato a cercare gli inchiestatori gli informatori piuttosto chi conosce i luoghi che hanno praticato e che certamente sono anche coltivati o praticati l'attività agricola qui c'è sempre il gesto comunale il gesto comunale farà la sementa in fondo scompia il sguardo di a gente in Antona Gida rende lo più positivo valorizzante e c'è quello che cercano a fare Petro Paolo di Casabianca e il suo gruppo di inchiestatori e per conosci i luoghi ma è domanda a quelli che sanno l'anziano il gesto si marchiava tutto lungo qui e si continuava a fare e si andava a sementare di lasciare aperte gli anni che si regolavano verso le coste rosse e si rivolavano verso le lastre aperte c'era tutto tutti i rappelli per più regolare verso il sobrano era per tutto il mondo e tutti quelli avevano i terreni che curtevano e fecevano i vigne erano molto studiare la vigne pochi studi sono stati evati in un tal passato campagnolo e vigno a ruolo di vestire da presso l'abitante dei quartieri concernati e poco tempo dopo la guerra che i vigne sono stati abbandonati di 6 tempi fermano sempre qualche vestigio quella di Resson normalmente c'è una spesa di bozza dove ci mettiamo l'ua che carcegavamo ma mica più di blatt che vedi di traverso così l'uteri è tutta carcegata l'ammassavamo e da municipalità che c'è una spesa che c'è un'acqua fresca qui sotto muovete muovete un giardino qui diamo vita che c'è un'acqua 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 che c'è un'acqua